Spesa, idea, GEA! Alla GEA con sicurezza compri sempre la freschezza Alla GEA tu puoi trovare tutto il meglio e risparmiare Far la spesa qui alla GEA questa sia una buona idea Spesa, idea, GEA! Prezzo e qualità, stand di casa qua L'italiano sa come risparmiar Spesa, idea, GEA! Supermercati e negozi GEA Dove la qualità costa meno GEA! Innamorarsi della maionesa Elmans è facile Perché il suo cremoso equilibrio non copre i sapori Li scopre Elmans, un vero piacere in tutti i sensi Scopri Elmans Vieni, vieni, vieni da Giazzone Quanti mobili troverai? Vieni, vieni, vieni da Giazzone Pagherai come vorrai Vieni, vieni, vieni da Giazzone Vieni e non ti pentirai Vieni, vieni in vicio in carostella Ma vieni a Biella, ma vieni a Biella Vieni in auto in torpedone Perché a Giazzone ti piacerà Perché a Giazzone ti piacerà Giazzone è la scelta più Biella del mondo Gente come noi sa dire di più con il cuore che con le parole Quel nostro cuore che ritroviamo anche in un riflesso di autentica acquavite Ti amo, cuore del distillato La nostra acquavite, di cuore come noi Il potere del tatto nella sensualità Conoscere il corpo del tuo partner È tanto importante come conoscere il tuo Questo è fondamentale in un buon rapporto di copie Tu e io ti aiuta a renderlo migliore Con nuove idee e suggerimenti Tu e io in edicola Il primo e il secondo fascicolo a sole 2500 lire Addio del suolo pallido Il letto si è svegliato Rio Bassetti E' passati Rio Bassetti E' nuove idee Rio Bassetti E' passati E' passati E' passati Che bello il letto E sotto c'è perfetto Lo tiri, lo sganci E' sempre perfetto Bassetti ha svegliato il letto Buongiorno Pro Cannex Più controllo Migliore impatto Più potenza Oggi La racchetta del domani Pro Cannex L'affascinante Ornella Muti Ha un innato senso dello stile E la sua bellezza Allo stile di Lux Mi piace il suo nuovo profumo La sua eleganza E la morbidezza della sua schiuma cremosa Sì, Lux lo riconoscerai fra mille Solo Lux E' il mio sapone di bellezza E la bellezza E' sempre di moda Nuovo Lux Così elegante E così delicato nel profumo E oggi più che mai Il sapone di bellezza delle stelle Ho fatto l'amore con Control Control La sicurezza Anche nella versione super sottile Sento Quando le gengive si fanno sentire E' un segno di pericolo per i tuoi denti Agisci con AZ-15 Il dentifricio medicato specifico per gengive AZ-15 Grazie al suo potere disinfettante Combatte la placca batterica Mentre i suoi principi attivi Leniscono in profondità i tessuti gengivali Lasciandoti un'intensa sensazione di benessere Così aiuti le gengive a mantenersi forti e sane AZ-15 Il momento di cura delle gengive Che assicura il futuro dei tuoi denti AZ-15 Il gengi dentifricio Dalla ricerca AZ-A Una presentazione Bade da Sparfam di Adoran Da oggi O anche da domani Comodamente a casa vostra Ti hai detto? O anche da domani Basta Tu bastare Bravo Comodamente a casa vostra Ma che cos'è? E' un varietà? E' uno show? E' un dissetante? No forse Forse è un film Signore e signori Buonasera Ma comunque l'importante E' che ci sia lui In arte e suggeritore Dal secolo Renzo Arbore FFSS Martedì alle 20.30 Su Italia 1 Quando la vita ti sta bene FACIS PUROM Minolta sa Che le vostre esigenze E' un fatto di fotocopie Cambiano Per questo Minolta E' sempre più avanti Per offrirvi il meglio In ogni funzione Minolta La semplicità Dell'intelligenza Ehi cosa Ma questo è un rapimento Mi scusi Sono senza parole Senza freni direi Se mi fa scendere Le offro un aperitivo Grazie Un santo ellegrino bitter Due san biter Pronti Due san biter Mario Io ho preso una multa Ma da un vigile Due san biter Prego San biter C'è più facile E' un avvenimento storico Ci sono 5 milioni Di finanziamento Senti interessi Per chi vota AX 8 milioni Per chi vota BX 12 milioni Per chi vota GX E' una proposta Straordinaria Citroen Metti una X Dopo la A Dopo la B O dopo la C Scegli Citroen Entro il 31 agosto Dai concessionari Dalle vendite Autorizzate Citroen Poi Maria Queste picche roga If you know English You can go anywhere in the world Because the whole world Speaks English L'inglese per tutti And the stocks will be transferred tomorrow Subito il Telex a Londra Sì L'inglese lo usiamo tutti i giorni E per impararlo vi consiglio L'inglese per tutti Per imparare l'inglese In modo semplice e naturale Il primo fascicolo La prima cassetta Il dizionario tascabile E le schede per viaggiare Sono già in edicola Un corso di lingue De Agostini Buon risveglio Buon espresso Buon dopo cena Buon deck Caffeina in meno Qualità lavazza in più Blitz pop Blitz pop Blitz pop L'adesivo Istantaneo Universale Forte Blitz pop È facile usare il futuro Nuovo aria e liquido Pucato a mano Vi presenta Mi concede questo ballo Mi dispiace Ma per questo ballo Sono impegnata con un riccone Ma allora tornerò nella mia fogna Quel riccone è tarda Perciò dovrò contentarmi di uno come te Tu non riesci a crederci Bene anche io riesco a crederci Una realtà per i loro suoi L'ho sognato o l'hai detto ti amo? L'ho detto Ti amo Ti amo John Travolta Olivia Newton-John Due come noi Domani alle 20 e 30 Su Rete 4 È il nuovo Enduro per 4 Aro CM Il fuoristrada per chi ama l'avventura Ma con molta classe Motore Volkswagen 1600 Diesel e benzina Aro CM Da lire 13.630.000 Chiavi in mano Aro CM Ti aspetta al Giamborì 12 e 13 settembre Con la tua Aro E la tua libertà Rio male Così tenero Gioca la Formula 1 Con la gazzetta dello sport Vinci 10 Fiat 1 Turbo Un Alfa Romeo 75 Twin Spark Una Ferrari GTS Turbo Il tagliando per partecipare Sulla tua gazzetta Malizia Profumo d'Intesa Che buon profumo Mai tu giur Lo uso anch'io Malizia Profumo d'Intesa E da oggi Malizia Uomo L'Eau de Toilette D'Odoran Solo Per uomini vincenti Malizia Profumo d'Intesa Malizia Profumo Malizia Toujour E Malizia Uomo L'Intesa Raddoppia Un gusto sconvolgente 101 Nate in Italia Come tutti noi 101 100 bollicine E una stella Mai su quel lenzuolo Neppure io su quello Basta Separiamo i letti Eh no Eh no figlioni Non è così Che si fa un letto allegro Provate con lenzuola Epidea Così creative e di moda Questa sì Che è una felice idea Epidea È una presentazione speciale Fresh and Clean Sabato Uno dei vostri cowboy Ha combinato guai Nella nostra città Uno dei vostri teppisti Ha combinato guai Nella nostra La legge è legge per Cougar E non si discute Tu non sei un poliziotto Nella città di New York Mi sono spiegato bene? Non lascio la città Senza quell'uomo Per lui la vita È una questione di principio Una questione di carattere Potrebbe diventare violenta Anch'io Clint Eastwood L'uomo dalla cravatta di cuoio Sabato alle 20.30 Su Italia 1 Milan VIP By Cocepa Gioielli Da oggi per te In vendita nelle migliori gioiellerie Vieni, vieni, vieni Da Iazzone Quanti mobili troverai? Vieni, vieni, vieni Da Iazzone E da casa tua li andrai? Vieni, vieni, vieni Da Iazzone Vieni e non ti pentirai Vieni in vicio In carostella Ma vieni a piella Ma vieni a piella Vieni in auto In torpedone Perché a Iazzone Ti piacerà Perché a Iazzone Ti piacerà A Iazzone È la scelta più Biella del mondo Spesa Idea Gea Alla Gea Con sicurezza Compri sempre la freschezza Alla Gea Tu puoi trovare Tutto al meglio E risparmiare Far la spesa Qui alla Gea Questa sì è una buona idea Spesa Idea Gea Prezzo e qualità Stanno di casa qua L'italiano sa Come risparmiar Bello Idea Gea Supermercati e negozi Gea Dove la qualità Costa meno Gea Belli i miei colori Vero? E sono merito Del mio ragazzo Ehi, grazie Ma non faccio che Seguire i consigli Del mio fotografo Eh sì Ai miei clienti Io consiglio sempre La carta colore Acfa A tutto il resto Pensano i laboratori Agfa Color Service Noi del fotolaboratorio Chiolini Ti diamo subito Stampe di qualità Perché facciamo parte Del primo gruppo Di laboratori in Italia La nostra professionalità È al vostro servizio 24 fotogrammi Su 24 Agfa Color Service Professione Colore